Beh, avrei preferito sicuramente venire come gareggiante e non come ospite, ecco però respiro lo stesso l'aria emozionante di Sanremo. Approfittando della tua proverbiale sincerità, a chi complimenti e a chi qualche consiglio? Beh, naturalmente faccio i complimenti a Verusca perché canta la canzone di mio fratello, poi mi è piaciuto molto Meneguzzi, mi sono piaciuti Neffa, insomma tanti bravi devo dire, una bellissima voce Rosini, sono rimasta veramente sconvolta dalla voce di questo ragazzo, una voce pazzesca. Invece i complimenti, i demeriti, qualche consiglio da dare per fare meglio ovviamente? Beh, ho sentito qualche clone, qualche clone c'è e la cosa strana è che piace, cioè a me è sembrato di aver sentito un paio di cantanti che mi ricordano... Come se fossero di moda i cloni, come se fossero di moda i cloni. Eh sì. Come il trash, no? Eh. Sei trash? No, no, questo io non lo voglio dire. No, dico oggi giorno. Sicuramente, insomma, è difficile avere una grande personalità e anche per quello che escono pochi giovani perché il giovane deve avere qualcosa di nuovo da dire, deve essere diverso da tutti gli altri cantanti che ci sono già. Marcella, un accenno per uno sat e a TV7 di un tuo evergreen. Un accenno? Un accenno. Beh, stasera accenderò Montagne Verde che voi conoscete tutti. Regala, lascelo dai. Mi ricordo Montagne Verde e le corse di una bambina con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero.